E' bello a tutti ragazzi, qua è Bazzocliparla e oggi siamo tornati in un nuovissimo video dopo miliardi di anni che non uscivano, secoli, in un nuovo vlog. Questo era proprio un anno, più di un anno che non uscivo un vlog. Oggi vi farò vedere tutta la mia postazione dove registro, gioco, edito, perché mi è appena arrivato il monitor nuovo qua, è arrivato questa mattina, l'ho montato, ve la faccio subito vedere. Allora, come si può notare questo qua è il mega monitor super gigante e le super luci abbaglianti, però partiamo dal vederla in questo modo. Qua ci sono le luci, una, due, tre, questa qua è la luce che dovrò montare sopra lì perché sennò non si vede niente, quella lì la devo montare sopra lì e questa qua la devo montare sopra lì, sennò non si vede niente. Quello lì è il mio vecchio monitor che era in 1600x1200, mentre questo qua è 4K, 43 pollici, super enorme, mentre queste qua sono le due luci, una e due, sono delle luci da studio di registrazione. La mia sedia, la mia maglietta, perché senza maglietta, come si fa a fare i video di Bazzuc, senza la maglietta Bazzuc, e poi anche dietro, però niente, la parte dietro non è che ve la posso far vedere. Qua c'è il super mega green screen enorme, che poi enorme non è perché alla fine è la lunghezza di un metro e cinquante all'altezza di due metri, mentre questo qua, super potente, è il mio nuovo computer, quello che ho preso a febbraio per intenderci, quindi nuovo, non è che sia poi così eccessivamente nuovo. Allora, qua, mi sto ingarbugliando tutto, se c'è una luce forse si vede qualcosina, allora, puntiamo qua una luce, perfetto, quella lì che vedete, oh, aspettarne un secondo che regolo un po'. Ecco, allora, questa qua che vedete in primo piano è la mia scheda video, della MSI, è la 1080 della MSI, scusate la pronuncia. Questa qua, invece, è la ventola, quella per la CPU, lo so che è enorme, questa qua è la mia mano, è più grande della mia mano, per intenderci, è grande quanto la mia faccia, eh. Sono diventato tutto scuro e blu, ecco, è più grande della mia faccia, circa. Non ricordo perfettamente, poi vi metto il link in descrizione di tutti gli oggetti. Invece, il case è della Cooler Master, ha anche questo sportello qua, super bello, super mega sporto, che si apre e qua ci puoi appoggiare le cose e si chiude. Vabbè, vedete, c'è scritto qui, c'è scritto... Si mette a fuoco, ecco, perfetto. Quello lì è l'alimentatore della stessa marca della ventola e dell'altra ventola, della Be Quiet. Stai zitto, eh, mi raccomando, zitto! Qua c'è le SSD, una e due, sono questa qua da, quella della Samsung da 250, se ne inquadro bene, mentre questa qua è un'altra, no, ho sbagliato, quello sotto, questa qua, è un'altra ancora della Samsung da 500, però questa qua, 500 giga. Questo qua, invece, è un harddisk, un harddisco, no, scherzo, un harddisk da 500 giga. Poi, dietro lì potete vedere, qua, che c'è scritto Asus Pro Gaming, che sarebbe la mainboard, però è un po' coverta da tutto il resto. Però, vi lascio anche il link di tutto il computer, dell'assemblaggio e tutto, perché non l'ho assemblato io. L'ho fatto assemblare da un sito che... un sito specializzato su questo, è un sito tedesco, che appunto fa questo, di mestiere. Potete selezionare tutti i pezzi, tutti i case, automaticamente potete anche selezionare con un... Dopo, al massimo, vi faccio vedere un breve tutorial, anzi, vi metto proprio il link del mio computer, questo qua, in descrizione, che così potete vedere subito quali sono tutti i pezzi precisi, perché io non è che mi ricordo tutte le cifre, i vari modelli degli alimentatori, delle ventole. Comunque, stavamo dicendo... Lì potete vedere la RAM, dietro alla ventola, non so quanto si possa vedere, ma qua ci dovrebbe essere il primo, e qua dietro ci sono il secondo banco di RAM, ce ne sono altri due che si possono mettere, ma per adesso non mi servono. Due RAM da 8 giga l'una possono bastare, eh! Salendo, si trova appunto il monitor, che ora vi spiego, perché è super nuovo, nuovissimo. E in realtà non è un monitor, ma è un televisore, dopo capirete, perché i monitor sono troppo piccoli per essere un 4K reale, non ci sono 40 pollici, quindi se fossero solo 32, ad esempio, il 4K perderesti dei pixel come definizione, quindi non ne vale la pena da fare questa cosa, mentre invece prendere un televisore come questo qua è molto più comodo, perché comunque costa di meno, si può connettere in internet, può funzionare tranquillamente anche senza il PC, quindi se non hai il PC o ti si rompe l'altro televisore che ho di sopra, puoi comunque utilizzarlo come televisore. Poi è 4K, adesso infatti cominceranno i nuovi video di Minecraft in 4K, anche se non so quanto possa servire Minecraft in 4K, però noi facciamo Minecraft in 4K. Questo qua è il mio microfono, è un microfono della Tonor, cioè anche sulla scatola, la vedete là, quella lì è la scatola del mio microfono, che forse vi metto anche il link in descrizione di questo, se riesco a ritrovare il link. Comunque è un bel microfono, ha un cavo bello lungo, ovviamente è fatto apposta proprio per registrare dal computer, quindi potete connettere al mini jack dell'audio. Qua invece ho la tastiera, questo qua è il telecomando del televisore, lo metto lui. Qua si può vedere la tastiera della Logintech da gaming, ci sono tutti i vari tasti programmabili, il G1, G2, G3, G4, G5, l'M1, M2 e M3 che servono ad esempio per i videogiochi. Qua ti rileva tutti i videogiochi, no a parte questo, ti rileva tutti i videogiochi che è sul computer e automaticamente ti fa un preset automatico. Poi qua appunto c'è il resto da tastiera con i tasti WASD evidenziati, perché in questo modo, anche se sei al buio, puoi vedere lo stesso questi tasti che sono evidenziati, quindi riesci a riconoscerli, perché sei uno per la maggior parte dei giochi, insieme alle freccette, perché anche quelle lì vengono utilizzate, tra virgolette, per quasi tutti i giochi. Anche il tasto delle luci, che adesso non è... ah sì, funziona lo stesso. Non so quanto potrete vedere, aspettate eh. Ora le vedete che è tipo semiluminoso? Ecco, ora l'avete notato. Spengo perché intanto consumo. E poi questo tastino qua speciale, che cliccando l'ora non funziona, permette che anche se voi cliccate, ad esempio, i tasti come Windows, i tasti Windows e maiuscola, non vi setta le maiuscole e non vi apre lo Start, in modo che così anche durante il gaming non siete disturbati, tra virgolette, da appunto questi tasti, che nel senso magari tu clicchi lo Start, ma tu non volevi cliccare lo Start, tu vuoi cliccare la freccetta, la Z, la X, quello che tu vuoi. Però potrebbe essere comodo questo fattore. Io l'ho già provato, perché la tastiera ce l'ho da prima di giugno, ce l'ho tipo da marzo, però ho preferito avere tutti i componenti del PC per fare quella che era il vlog della mia postazione. In più c'è anche il mouse della Trust, in poche parole è tutto di marche diverse, a parte le casse, che sono una lì, una la dietro, non so se la notate, e una dietro la stampante. Il mouse, che è della Trust, molto bello anche questo, con otto tasti programmabili, non so se li vedete, sono due qua, due qua e uno qua, così questi tasti qua sono tutti programmabili. In più ovviamente c'è la rotellina, i soliti due tasti, sinistro e destro, e in più c'è anche queste lucine qua a fianco, ma soprattutto queste due qua, che se voi le inquadrate così, sembra tipo una specie di macchina di Batman, e se accendete le lucine li fa anche gli occhi. Per questo video dovrebbe essere tutto, ci vediamo alla prossima, da questo video in poi, o forse anche da video precedenti, cominceranno i video in 4K, che sono molto più belli, e vengono molto meglio, rispetto a che i video normali. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima e ciao! Questa è la mia pagina di fini video, qui potete trovare tutti i link, che vi potrebbero servire per andare a nuovi video, o per visitare il mio canale. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie! 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 Grazie!